Ho perso la mia identità di lavoro, ancora oggi non riesco a ritrovarla, perché non so cosa potrei fare, in un ufficio seduto non mi ci vedo. Se uno è forte si risolve, ma se uno è debole penso che un infortunio ti porti anche a uscire un po' fuori con la testa, perché ti senti meno amato, ti senti che prima facevi qualcosa e adesso quella cosa non la puoi fare, non perché non la vuoi fare, perché non la riesci a fare, è ben diverso. Sapendo che nella tua testa c'è il discorso di dire io la so fare.